Ciao a tutti raga Allora eravamo a capitolo non mi ricordo 15 o 16 la cripta del tesoro Allora cosa è successo? È successo che questa era una trappola L'ultimo enigma che ha risolto Saldi è rimasto chiuso di là Speriamo che non lo acchiappano Navarro e quell'altro Io e Elena siamo in trappola Però è intitolata la cripta del tesoro Quindi forse Anche se è una trappola Magari ci porta da qualche parte E noi vediamo Non perdiamo tempo Un modo molto elaborato per nascondere il dannato tesoro Un maledetto labirinto Ecco che cos'è Da che parte andiamo? Raga da che parte andiamo? Scegliete voi Aspetta un secondo Allora sulla mappa chiaramente Questi sono numeri romani Nel numero della mappa di Drake Devono voler dire qualcosa 2, 5 e 7 Praticamente rappresentano le coordinate Vedete? 2, 5 e 7 Il 2 e la freccia va di qua Poi dobbiamo trovare Poi dobbiamo trovare Il 5 Beh tu resta di vedetta Come sempre Il 5 è qua Allora ragazzi Chiaramente è pieno di numeri Alcuni si sommitano Siamo sempre la Se sai cosa devi fare Una volta risolto l'enigma Allora ok Altrimenti non combini niente Vedete? Il 3 non ci interessa 2, 5 e 7 Il 7 sarebbe di qua No, il 5 è qua E dobbiamo salire Vedete? Il 7 lo teniamo qua E ci indica di buttarci giù Ma noi non ci dobbiamo buttare giù Allora Questo può tornare utile Questo può tornare utile È un argano da azionare Noi lo azioniamo Se ci riusciamo Ok Il cilindro ruota Se si ingastra L'acqua lo fa funzionare Perfetto Praticamente Ha attivato tutto un meccanismo Benissimo Allora Ora senza buttarci Senza suicidarci No Questo è uno degli enigmi Più difficili Che c'è Ripeto Uno una volta che l'ha fatto Non Devi fare un salto Ma non ci riesci Vero? Ecco In compenso Ha saputo farlo giù Assaltare giù È micidiale Drake Drake Vogliamo andare giù di nuovo? Se vogliamo andare giù di nuovo Me lo dici Devi andare là Oh Mamma mia Non mi fa urlare Perché voi Vedete se ci sono le traccole Questa se ci dà una botta Sapete dove ci spedisce Elena è là giù Ma vedete Elena È là Ora la spariamo Stiamo fermi Che cado giù Per fare l'idio Sali Mi senti Dannazione Niente Non prende la radio Oh mamma Allora qua ti ammazzi Almeno che non sai Come devi fare Vedete Chiaramente uno ci arriva dopo Perché qua Pigni tante di quelle botte E finisci giù E finisci giù 50.000 volte Allora Fine della corsa Mi sa Oh no No Si scende Si scende Select Di 9 I numeri Allora Io direi di Oddio no No Oh no Allora Aspetta Cerchiamo di fare Il salto Centrato Oh Eh qua non possiamo andare Vedete Ai lati ci sono gli spondoni Eh Qua che ci vuole Ci vuole tempismo E un po' di culo Ragazzi Già fatta Ehi Ce l'ho fatta Ehi attento Guarda se fosse Ma porca puttana Tutto bene Va bene Eh tutto bene Sto bene Però sei caduto giù E ora dobbiamo andare di qua Eh qua ci sono Eh qua caschiamo giù Me la sento Vuoi credere come cado Tanto non lo so che cado Ah Ah Ce l'ho fatta Oh 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 Ok Oh lì Di là Però è chiuso Ah no Ecco Che bello Tutto questo Per la prima Allora Elena Vieni Anzi Anzi Che viene a fare Tanto non ti serve D'ambica Eh aspetta Elena Troverò il modo di Di partire C'è anche un modo Per aprire questo passaggio Eh lo so Ma che diavolo Ecco Non siamo soli C'è qualcuno O qualcosa Bello che ho due armi utilissime Che non vorrei spiegare Però le devo usare Ma che è un altro meccanismo Speriamo che sono finiti Sti meccanismi a spezzacolo Oddio niente più Grazie Andiamo Rietro Oh mamma Che botta Eh di ragia Si è messo in broca adesso Non l'amora più per quell'altro L'ultimo a restare in piedi Si prende l'oro Tu adesso Uccidemi Le cose vanno sempre meglio Si si le cose vanno sempre meglio Hanno armi migliori L'ho vista l'ho vista Elena Oh cazzo Guarda Mo ci ammazzano Elena Ti accorgi Che praticamente Ti stava prendendo Affanico Eh no Dobbiamo cominciare L'affanico L'affanico Scusate ragazzi Le sto mandando tutti A quel paese La West Annaggia la morte La vaffanbrode La vaffanbrode Oh mamma Eh La West È tipo quell'altra Guarda qua Stavano tutti bene Con le Annaggia un altro Ma muori Non possiamo far vingere Eddie Ragazzi Dai Credo ci sia una specie di scala meccanica Qua su Ellen Aspetta Eh Levati Eh cazzo Arrivaci Mamma che labirinto qua però Aspetta che qua c'è il cicciule Non mi ricordo dove Non sarei così fortunato Eccolo va Eccolo va Va bene Allora Elena Ti butto la scala Se capisco come si fa Ti butto la scala Vieni Dai Elena Elena Oh Oddio no Ma per uccidere Dov'è? Non lo vedo Nessù Ho visto Elena Vabbè saliamo Spero che è morti da qualche parte Non lo possiamo ammazzare di qua È troppo lontano E da questa parte Noo è finito l'em Hanno la gatta ora Morirai Spara per uccidere Chi cazzo Spara per uccidere Spara per uccidere Hai scorciato Proviamo di qui Dove siamo? Qui non c'è niente Niccolò il circo Come al solito Chi è? Nate È Drake Oh Non l'ha mai trovato Noo È morto qui È morto qui Drake Senza mai trovare tesoro Ha sprecato la vita Per niente Eh no Non per niente Non deprimerci Dai Niente Sei pronto per andare? Già Mai come ora Dai Allora 17 Il centro della cripta Ragazzi Ci rivediamo nel prossimo video Anche se abbiamo lasciato la cosa un po' deprimente Ciao a tutti Fatemi sapere se vi è piaciuto Ciao Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti 후 Ciao Ciao